Allora, quando scriviamo la musica per un film, come per esempio il film I Fratelli del Filmo, i titoli che si danno ai brani che si registrano sono M1, M2, M3, M4, che viene dalla tradizione quando si distingueva M1, M2, M3, musica 1, musica 2, musica 3, di 1, di 2, di 3, dialogo 1, dialogo 2, dialogo 3 e effetti 1, 1, 2, 3, non hanno un titolo. Quando poi si pubblicano i brani interni bisogna dare un titolo e io cerco sempre di trovare un titolo che sia coerente con la scena che stava portando. A volte manchiamo di fantasia e siamo un po' banali, invece a volte c'era un periodo di situazione dove si dava nome della protagonista, tema di Gilda, tema di Francesca, tema di Lapa, e certe volte siamo un po' più creativi, ma riguardo al fatto che il pubblico vada a vita, per me il pubblico vada a quello che vuole e che di certo non mi sento, non mi trovo bene nella funzione dell'educatore. Quella dei titoli è una storia un po' strana, perché tutto il cinema, la gran parte del cinema, la fatta del cinema che ho visto, cominciava con i titoli, cominciava con un marchio di distribuzione, un leone, un bong, e poi c'erano i titoli, dove i ruoli più importanti venivano l'attore addirittura prima del titolo, l'unico regista, in mezzo c'erano tutti quelli che avevano il battito, compreso il musicista, il montatore, il costumista, l'arredatore a dire, e durante questi titoli che erano naturali due minuti e mezzo, tre minuti e mezzo, il musicista scriveva una musica in cui c'erano i diversi temi del film e questo era un quadro dalla nostra cultura del melodrama, dell'opera, lo voluto spesso, era una antologia dei temi che si sarebbero sentiti durante l'opera. Ora questi titoli sono scomparsi, perché? Perché sul cinema c'è l'orma della televisione, i titoli dicono che fanno cambiare canale, quindi il film deve entrare subito in media stress, deve andare, come si dice, acchiappare il telespettatore e quindi sono spariti questi titoli che vanno tutti in coda, però insomma non più chi hanno la novità di stare lì a aspettare fino alla fine per sapere, passature, pomperi, cariche, eccetera. Però una cosa che avevo contato a don signor che è quello che è uscito dalla porta e che è entrato dalla finestra, che sono andato a vedere un film e in testa c'erano 15 marchi della distribuzione, la regione, il ministero, la banca, la società finanziaria, lo sponsorizzatore, che alla fine hanno preso il posto in cui c'erano gli artisti, dove c'era il regista, il cineggiatore, adesso ci sono le banche, non so se può dire qualcosa questo, ma è un dato di fatto, sicuramente i titoli di testa di oggi sono più noiosi di quello che è arrivato. Grazie.